Ciao a tutti quanti ragazzi, allora allora allora, oggi continuiamo la 100 Games Challenge, abbiamo Marghe dietro che ci porta fortuna Eccoci qua, che vi guarda e vi osserva, leggo anche la chat ogni tanto, si c'ha due cellulari, uno è il mio contro la chat e l'altro boh Ragazzi allora partiamo subito con la 100 Games Challenge, che siamo arrivati a 14 win e una lose, purtroppo la lose rovina tutto Eh però così, questo è un account che è monosivir no? Sto giocando soltanto Sivir e ottengo delle cose che non so come mai Eh vabbè, sono monosivir e quindi io dico, allora vado ad aprire il mio negozio e troverò una skin di Sivir, giusto? Eh, e invece no, trovo Twitch e allora dico vabbè ne ho un'altra, e allora apro l'altra e troverò la skin di Sivir E invece no, e trovo Trash e allora dico vabbè ne abbiamo ancora quattro e allora apro terza E niente, e non trovo Sivir e allora dico vabbè apro quarta, ancora tre possibilità, troviamo no? E invece trovo Vayne, trovo tutti ad carry ma non trovo quello che gioco io E allora dico vabbè ma tanto abbiamo altre due E che cazzo è questo? Kaiser Drago della Laguna Allora io dico vabbè ma cosa succede? Abbiamo fatto cinque, io ho fatto solo Sivir E non trovo Sivir, trovo tutti gli altri ad carry ma dico all'ultimo sarà lei E no non trovo E allora io mi incazzo, mi devo arrabbiare ragazzi Perché quello di Riot fa così? Io non capisco E vaffanculo Andiamo a spaccare e continuiamo la nostra 100 games challenge E vabbè abbiamo un'ottima combo Morgana Sivir no? Perché abbiamo il doppio black shield In qualsiasi modo evitiamo tutti i tipi Niente scherzavo, l'hanno tolta Eeeh Molto triste cioè si è visto proprio il momento in cui gli si è spezzato il cuore Morgana che si rompeva piano piano lentamente Tipo magari lei proprio vedeva bianco e nero Triste triste Mamma mia poverina questa Morgana Allora oggi proviamo una tattica differente Visto che i nemici vogliono Vogliono grabbarmi Stavo dicendo vogliono comprarmi Non so perché Proviamo una tattica differente Ok? La tattica è Prendiamo le scarpette Perché abbiamo contro blitzcrank Così non posso comprarle fino al minuto 12 E lui può grabbarmi più facilmente E anche il nostro consegna biscotti abbiamo Così abbiamo più mana Magari questo mana in più ci aiuterà A tenere più Prima le wave Perché ultimamente abbiamo visto che abbiamo sofferto un po' di mana Eeeh Un po' più Un po' più troppo Un po' troppo in più rispetto a quanto ci aspettava Ci aspettavamo con Sivir no? Non vogliamo soffrire così tanto di mana Sappiamo che spammiamo le spell ma Un conto è Spammarle Un conto è Insomma non avere proprio mai mana E quindi andiamo Cugino come vedi se il primo Nelle challenge Se sei il primo nelle challenge dei token Vai sopra al Col cursore E lo vedi Qua per esempio non lo puoi vedere in questa schermata Ok? Però nell'altra schermata Cioè quando sei in lobby lo puoi vedere Ti dice proprio Il numerino Ad esempio se ci fai caso Abbiamo Avevo una volta un video Chissà se ce l'ho ancora Eeeh ragazzi ben arrivati Eccoci qua ritrovati Come state? Ciao bellissimi Ben arrivati in live No sto scherzando Non l'ho trovato il video E quindi Facciamo così Eeeh Andiamo in game Restarto un secondo Quando la live va male Dice vabbè senti Ricominciamo Devo fare Una volta Una volta magari Vanno tutte male le partite Dico Beh ragazzi Ricominciamo la live Vediamo se va meglio Arrivate in tempo Per una normale live Ciao Titus Ben arrivato Buonasera Valentina Parlavamo di una tizia Che ha Investito un cane in live Eh vabbè Se mentre è in live Guarda il telefono e guida Fa un po' di cose Che non vanno bene Speriamo che il cane Stia bene Comunque grazie mille Cerpe Ancora dei cinque mesi Grazie a questo sostegno Grazie a questo supporto State continuando A portarci Armamenti Oddio Eh niente Anche loro Volevano Sostenermi Con la sub Però Diciamo che No eh Va bene Non ho usato nulla Loro hanno usato L'ignite invece Quindi Diciamo che È tipo World Però Ecco Io vado back Ragazzi Questa vita qua Non ci resta Non perdo tempo Non perdo tempo E la madonna E ci rompono ancora le palle Questa dura sto Sto inveja Qua vogliono rubare Il buff proprio Vogliono fare i ladri Già fatta Sivir Eh ancora no Stiamo facendo Siamo in corso Ti farò sapere tra poco Quando Come sarà finita Stai già facendo Sivir Sì Dopo l'avrò già fatto Sivir Dopo l'avrò già fatto Sì Che cazzo succede Ok No l'accento circonflesso Ma non si sente niente Ho messo troppe cose strane Nell'accento circonflesso Vabbè ragazzi Comunque Non perdiamo il focus E andiamo Vabbè spacchiamo questa miss fort Vedete se ci fightano così E ce lo facciamo andare bene ragazzi Ce lo facciamo andare bene Perché comunque Ma che cazzo Non riesco a parlare Ma che cos'è Mia mamma Grazie dei 50 bits Ripunagoduri alza il volume cugino No no al massimo lo abbassiamo Se no mi esplode la testa Ultimamente sto giocando a zero Ho scoperto che è fattutamente barocchini e mi diverte tantissimo Grande è molto bello quando si controllo Sivir Doppia con primo sangue 700 gold mica male infatti Assolutamente mica male L'unico problema è che adesso questi qua ci vogliono fare del male Vedete che sto a 100 circomplesso mi sta andando fuori di testa Questo secondo ragazzi Devo abbassarlo ancora di più Ma che buff Mi sta nerfando sto cosa Qualcuno tolgo le cuffie così Lo ascoltate voi visto che vi piace tanto Anzi ve lo faccio ascoltare solo a voi Secondo me posso toglierlo Io posso non sentirlo se volete Però poi non sentirò più la sub per sempre E se vi piace ve lo tengo Oh lux Va bene va bene Qui stiamo fattando tutti di merda ma Non riesco a parlare ragazzi Questo accento circomplesso nella mente Brava brava lux Che sia l'importante fermare Togli le cuffie Me le sono incollate ai capelli Non posso toglierle Ma faccio tutte le live Così non mi cascano se mi muovo Ok facciamo questo Sì mi avete molto bugato È quasi finito Grazie mille Oh la tortura è quasi finita Grazie Allora con tre scarpe Questo lo teniamo a 9.45 Oh è finito Grazie Grazie mille Lago duri ragazzi È finito È finito Bene Molto bene Alleluia O no adesso mi manca No 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 Almeno adesso finalmente posso parlare Chi ha altri 50 bits No nessuno Ciao Grazie pentadisco Benvenuto Prendiamo questo Prendiamo questo Questa wardina qui E non è male Ma quindi c'è qualcuno Ladietro C'è un jungler Probabilmente Eh sì Eccolo qui Grazie della sub Un skillet Grazie mille Grazie mille Della sub Dopo ne riparliamo Ok 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 Dobbiamo pushare ragazzi E via E via E nonostante tutto Ho il doppio del farm Dell'altra di carry Quindi siamo Tutto bene Uh cosa fa quello È pazzo È pazzo Cugino mi vuoi sposare Avevo detto che mi sarei inventato una stronzata da dire Sempre un piacere supportare il canale Ti voglio bene cugino accento circonflesso Oh ma grazie al vedo Un anno insieme No non ti voglio sposare Però ti ringrazio per questa Per questo bellissimo anno E c'è un skillet Grazie anche a te di tre mesi ragazzi Quanti accenti circonflessi Che mi state facendo oggi Mi fate emozionare Così arrossisco Divento Miss Fortune Ciao Killzone Votate il pronostico Anche se è coperto da tante cose Adesso votatelo Eh vai vai votatelo Punto esclamativo Follow Per sapere da quanto tempo Avete il follow Al camale Punto esclamativo Watch time Per sapere quanto tempo Avete passato A vedere le live Scopritelo Si è buggata la live Anche la grafica È piena di accenti circonflessi E non fa niente ragazzi Non fa niente Tutto sbagliato Ok intanto Luz è stata distrutta L'abbiamo persa Non fa niente Hanno tolto I miei minion Guardiamo qua Ok 10 secondi Alla nostra Attendiamo Perché anterà il nostro amico Blitzcrank E andiamo in base Che sta per arrivare Il carretto E continuiamo così La nostra strategia Lui non mi può grabbare Loro devono per forza Farmare i minion Ci faranno hitare Dai minion È benissimo Ora Lux Speriamo che Si si funge sempre dal carretto Speriamo che Lux Non si fassa massacrare Comunque grazie a tutti quanti Ragazzi per questo sostegno Grazie per queste sub E per questi accenti circonflessi Veramente Non si saprebbe come fare Senza Dopo fare un game con Senna Dopo facciamo un game Con la ruota Giriamo la ruota E sarà la ruota Decidere che cosa Io dovrò giocare Come ogni sera Stiamo facendo in questo periodo In cui devo giocare Tutti i campioni Con l'esplode build Ma dato che Non Dato che Insomma Non c'è un ordine Allora cosa faccio Io Li ho messi tutti nella ruota Tutti i champion E devo giocare Quello che esce Magari può uscire Senna La probabilità Dovrebbe esserci Perché L'avevo inserita Se non erro Sì Ovviamente non ho messo Tutti i champion Del gioco Perché non tutti Workano con l'esplode build Ho messo solo quelli che workano E Senna Se non erro È uno di quelli Malgax È il tuo modo di salutare È il modo degli udir Ciao Malgax Cugino che notte Dovevo girare con l'anniversario Dopo giro una ruota Se vuoi Se vuoi c'è la ruota del ricordo Oddio Guarda lì Abbiamo quasi segato Vabbè Il nostro ruota ufficiale Mi piace Mi piace Una bella Uh Puliamo tutta questa wave Tra l'altro Malgax Uh Uh Lux mi sa che qui ci muore Vabbè Va bene Lux Non ha calcolato bene I danni dell'autore I'm just strolling Inting Mossa Se voglio Aspetta ma è italiano And bang Dump E Ognuno ha il suo Ma sì Chi se ne frega Vediamo se è italiano Tra l'altro Malgax Appunto ti stavo pensando Perché noi questo sabato Ci rivediamo E giochiamo a tanti giochi Da tavolo Eh 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 Quindi ho detto So che a lui piacciono Oddio Valentino No VIP Oh no Valentino Sei VIP anche in questo canale Basta Essere VIP O sì che bello Eh io Se vuoi puoi anche venire anche te Cioè io Ti stendo l'invito Però magari sei impegnato Quindi non lo so Quali sono i tuoi impegni Ma se hai voglia Sai che c'è sempre Ma che vuol dire il suo nick Io non so A che sto pensando È italiano È italiano Vabbè io ho 104 farm Che è Quasi il doppio O è il doppio? No non è Quanto è? No non è il doppio Però insomma L'altro aveva 58 Adesso ultando ovviamente Li ha presi Dai Bellissimo ragazzi Povero Blitzcrack Dirà Ma questo sta Sta scriptando Come ha fatto a vedere Il mio grab attraverso il muro Segata Oh sì Mi piace segare la gente Con la La Q di Sivir Segatolo Niente no Lui no Va bene va bene va bene Va bene ragazzi La corazza delle torre Cadrà presto Ma noi abbiamo già fatto La prima torre E stiamo facendo la seconda Lux potentissima Non so a che sto pensando Sarai emozionato Ehi 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 Dove va questo Segato Questa scappa Che ha più vita di me Vabbè Segata Mamma mia ragazzi Nemici segati Perfetto E adesso Andiamo in base No Blitzcrank Non ci riuscirei mai A fare questa cosa In un modo Continui E vabbè Blitzcrank ci prova Ma ancora Oh ragazzi Mamma mia Devo togliere Gli allerti di nuovo Ma chi è stato adesso Andava tutto così bene Il cugino Che con tutta la nostra Lanna possibile Sta prendendo due Tore al minuto Quattordici Sì 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 Tranquillissimi Sono emozionato A giocare con ADC così bello Oh che carina Oh che carino Molto molto dolce Eh sì Sì Io sono Sivir La normale Ave Quattro Il cugino Se le sogna Se siete Circonflessi Ma non ho capito Perché vi siete messi Conto Mi avete mandato Un esercito Di accetti Circonflessi Da dover Sconfiggere L'unica cosa di circonflesso che vedranno i nemici sarà la mia arma qua Sto shuriken Come si chiama? Questo cuneo? Come si chiama l'arma di Sivir? Ha un nome La chiameremo accento circonflesso Questa qua potevi grabbarmi Sì dai te lo concedo Tanto non era pericoloso E' Miss Fortune che sta riflettendo lì che medita Dice vabbè Allora noi la seguiamo Tieni Pronti? Pronti a correre? E là Segata Vediamo sto biscottino Un altro No blitzcrank non ci sei riuscito di nuovo Che brutto giocare blitzcrank contro Sivir Cioè vedete Mi rendete conto che lui è bannato Morgana E si è trovato contro Sivir Sarà tipo Tiltatissimo E mo' mi faccio questa torre Anche a rischio morte Perché è importante 600 gold Anche se gliene do 1000 Eficazzi Andiamo in base Landa Della montagna Crescono Le alture A posto Eeeh Prendiamoci questo Ciao Fausto Fausto Sonsi Grazie per farlo Ben arrivato E' finito troppo presto Vabbè E' pieno di accenti circonflessi Meno male che è finito A me piace con le mani Questo weekend ho due compleanni Ecco vabbè Non ti preoccupare Dai Stron Assolutamente si Eeeh Lo devo far provare a Marghe Prima o poi Gliel'ho detto che La facevo giocare Era con Marghex Che gli avevi detto Che ci avresti giocato Ma chi era? Era Fragola Aveva detto Fragola Che ci avrebbe giocato E quindi Ecco ci giocherà Magari non so se Questo fine settimana Perché E' arrivato un gioco nuovo Volevo provare quello Anzi le sono arrivati due In realtà E uno lo devo fare Con signor codice barre E l'altro E' arrivato Frostpunk A gioco da tavolo E devo provarlo Vediamo com'è Poi comunque Ce ne sono tanti altri Che Che non abbiamo fatto Tanto Quindi vanno fatti Ecco Segata A posto Ehm C'è anche quello Il mobba da tavolo Che devo Che dobbiamo fare L'abbiamo fatto solo una volta Segato Madonna ma Non mi è anche mai Tata la torre Cringe Segato Oh Frostpunk L'ha presa bene Insomma No 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 Oddio cazzo Ma non pensavo Che sia la ulti Sennò usavo la E Ma Perché c'è stato tutto Sto metal Vabbè Ma Io avrò segato i nemici Ma qua sono stato Boncato E' arrivato Mi hanno mandato in Brasile Chakram È il nome dell'arma È il Chakram Muted Perché mi pare Sempre grab Uffa Sì sì Sicuramente Arrabbiato per quello Non tanto Per il resto Vabbè Cosa possiamo Prendere qua Dai prendiamoci un po' Di rubavita Perché se no Moriamo In realtà ce l'ho La rubavita Grazie a questa affare Quanto ne dà 6% Niente È pochissimo Che ero una di merda Una volta era più forte Se non ero Ciao DD6M Buonasera Ben arrivata Ho avuto una brutta serata Fammi ridere Kugi Certo Arriveremo a Caserta Sono qua con la mia ragazza Eh Fa i versi Però non si sentono Perché è lontana Aspetta Prova a rifarle adesso Ecco Non è Assolutamente In cantina Maltrattata Non vi preoccupate Si sente Ok Signale Sembra tipo L'orsa animale Dell'acqua Non lo so Non lo so È matta Oh Una bella sub Senza accenti circonflessi Grazie Daco Veramente Sei l'unico stasera Che mi ha degnato Di non farmi sentire Questo suono Grazie Daco Segato Questo sì che è un bel suono Il suono Dei nemici segati Questo è un suono Che gradiamo Il suono delle seghe Bene Bene Segato Mi porta nel suo regno Per essere segato Meglio E in privato Ok ok A posto Via questa torre Sivir la sega tutto Segato in privato Sì 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 È potentissimo Vieni via Lux Quello è pericoloso Drago Possiamo fare il drago Oppure Sì possiamo fare il drago Vanno A curarmi un po' Dei lupi Male non fa Ho proprio voglia Di segare Una bella wave Di minion Eccoci qua Opla Segati Molto bene Eh No Blitzcrank Non funziona La tua spetta Poverino È triste Dai Blitzcrank Non fa niente Non ti preoccupare Il prossimo game Non ci sarà Sivir Vanna là in caso Andrà tutto bene Cioè lui Mi grabba bene Vede che grabba un po' Se ne va indietro Proprio sembra triste Proprio non è che Continua in seguire Per farmi lei No Vabbè Vabbè Sento inutile Ciao Buonasera Frostan Ho visto la pubblicità Del gioco da tavolo O del gioco Su Steam Prossimo game Banner a Sivir Gli piccheranno Morgana contro No Penso che Sivir sia Più rara Come champion Da trovare Quindi Oddio Ah Vuoi essere segato Di nuovo in privato Biricchino C'è Chiana Che dice Questa è entrata Nel mondo di Mordekaiser E' uscita lei Non si aspettava Che uscissi io E invece Ma come fai A essere illesa Sì sì Segato Ops Scusa Nasus Ti ho rubato Tutti i minion Qua sta congelando I golem Bravo Eh Eh dio Che cazzo è qua No ragazzi No eh No No Blitzcrank Non ha funzionato Nemmeno stavolta E niente Segati Povero Blitzcrank Segati O Blitzcrank Nemmeno quello Ha detto Adesso faccio flash grab Sicuramente Riuscirò Questa la frego Stavolta Statizia E invece Nemmeno col flash Vabbè ragazzi Abbiamo concluso il game Io direi di Distruggere tutti gli edifici Per prendere più lp Perché c'è questa Leggenda metropolitana Che gira E io ovviamente ci credo E quindi distruggo Tutti gli edifici E esplosa come una Platinare il gioco Si chiama Quindi No eh Aspettate Cazzo Aiuto Niente Vabbè Prenderemo Un lp in meno Difficile in meno Allora A posto Un lp per noi Stasera non si mangia niente Ho mangiato Prima di venire in live Un po' di Pane Questo qua Appena Appena ci vedo Perché non vedo più La mia webcam Perché League of Legends Quando finisce il game Crasha tutto Mossa se voglio Ecco ho mangiato questo Questo è il pane kamut Biologico Con Accompagnamento Di Crema novi Di nocciole 45% Nocciole italiano Senza grassi Diversi Da quelli Per natura Contenuti Nelle nocciole Nel cacao Cose salutari Bene 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 GGVP Lux Abbiamo spaccato Uh Lux ha fatto 9 9 9 9 9 Mamma mia Per un danno E 10.000 Brava Brava Lux Mossa se voglio Mi è piaciuta Questa Lux Che dite La Grassi diversi Si chiama C'è scritto così Grassi diversi Ragazzi Senza grassi diversi Vedete La scritta rossa Qui sotto Questa Senza grassi diversi Non so cosa siano I grassi diversi Boh Sogni d'oro Marghi Spero non sogni Accenti circolomflessi Non sta dormendo Però si sta Adormentando Si sta Adormentando Ok Allora ragazzi Smetto di parlare Così può dormire Ok Può Dormire Può dormire Va bene Bella Lux Allora No basta Basta questo Però lo aggiungerei Agli amici volentieri Dai dov'è Aggiungiamo agli amici Lux Streammuta Per non svegliare La femmina Aggiungi amico Mi sta simpatico Con questo nickname Ah Qua abbiamo Ottenuto anche un gettone Non so quale Un ragazzo Prima mi chiedeva Come si fa vedere Il numero Ecco io con questo account Sono numero 1832 Perché ho ottenuto 19 pentakil Qua 910 Vedi in alto C'è scritto Da qui si vedono le cose Se non ce l'hanno Significa che devi ancora Salire Dopo questo Ottieni pentakil Con il capito Differenti Su questo account Ho fatto pentakil Con 14 champion diversi Adesso che sto giocando Solo civil Ovviamente Sarà difficile farne altri Però Cioè Anche così Senza challenge Particolari Perché Su questo account Non ho mai fatto la z Penta Però lo giocavo così For fun Ho detto Bo giochiamo questo 14 pentakil Con champion diversi Sono uscite fuori Nel corso Del Di questi ultimi mesi Quindi Adesso però usciamo Facciamo esci Non disconnetti Perché ogni tanto Mi da problemi Disconnetti E andiamo A giocare L'esplodi Build E andiamo a scoprire Subito qual è Il prossimo champion Che devo giocare Tra quelli rimasti Let's go E andiamo a scoprire E andiamo a scoprire E andiamo a scoprire